E' stato determinante in un paio di occasioni, insomma, perché è il portiere, no? Sì, sì. Scusa, certo. E soprattutto in una che sembrava dentro, insomma, quel tiro centrale, in uno dei nostri, che si è riuscito in un colpo di reni, quindi diciamo che mezza vittoria è merito tuo. Sì. Grazie, grazie. Non è stata una partita facile perché questa è una squadra importante, si sa che ha un'ottima rosa. Sono felice perché abbiamo portato a casa tre punti, tre punti importanti che ci avvicinano al nostro obiettivo e sono ancora più felice perché ha fatto anche una prestazione importante a livello personale e sono contento per questi tre interventi che hanno salvato la partita. Visto come si è messo da partire, come è stato di puntato, come si dice, ha fatto quelle parate che valgono un po' come dei gol, praticamente. Eh, sì. Ma la fine, anzi, forse non è poi stato così. Il portiere è così, magari ti capita questa partita in cui fai tre partite e salvi tutto e magari una partita che per 90 minuti non fai niente, un tiro del cavolo, prendi gol e lì la colpa è tua. Bisogna saper gestire tutte le situazioni, però oggi è andata bene, sono contento per me stesso ma soprattutto ancora di più per la squadra perché sono tre punti veramente importanti, bisogna lottare, fino all'ultima gara, quindi sono veramente felice. Tra due giorni si torna subito in campo, quindi la concentrazione che deve rimanere comunque altra nonostante... Sì, sì. Adesso godiamoci questa vittoria stasera, ma già domani mattina siamo di nuovo in campo e bisogna subito pensare a martedì che abbiamo un'altra squadra da affrontare, che è il Sud Tirol, in casa e anche lì è importante fare bene, quindi bisogna recuperare il prima possibile e prepararci per questa gara importante. Grazie mille, buonasera. Grazie mille!